Io ricevo, tutti noi riceviamo appelli numerosi e molto diversi di gruppi, organizzazioni, associazioni singoli che semplicemente dicono la gente non ne può più, la gente non ne può più per tutta una serie di ragioni, certo dobbiamo essere onesti noi di questo governo, la gente non ne può più, nel senso che molti trovano troppo pesante la pressione fiscale e troppo difficile trovare lavoro, da questo non possiamo chiamarci fuori, abbiamo però spiegato, poi si può essere d'accordo o no, come questo fosse un doloroso transito per un'Italia migliore, ma la gente capisce che non basta e che è pericoloso promettere scorciatoie che sono di solito scivolose, ma che vanno affrontati i problemi.